Se ti serve un gruppo per giocare con qualcuno, fare glitch, scambiare o fare anche raduni ti ricordo di entrare nel mio gruppo Telegram, è il più grande in Italia, link in descrizione Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video dove come vi ho detto al titolo vi farò vedere come fare soldi questa settimana evitate la prova a tempo perché è veramente difficile, ci metterete più di due ore per completarla quindi ve la sconsiglio assolutamente perché per 100.000 non vale la pena come avete visto soldi doppi questa settimana li abbiamo su tutti quanti i business MC quindi tutti quanti gli stabilimenti la tecnica è ovviamente rubare oppure rifornire acquistando la merce e semplicemente aspettare nel mentre potrete fare altre attività per appunto incrementare il guadagno come vedete hanno i soldi doppi, vendete mi raccomando sempre quella col valore più alto quindi vendete sempre nelle locazioni più lontane perché ovviamente ne vale la pena se ovviamente ragazzi siete in solo non fate riempire tutta quanta la barra adesso vi spiegherò come considerate che a breve uscirà questo DLC quindi Rockstar ci sta facendo preparare quindi come vedete io qui ho quasi nella fabbrica di coca tutte quante le merci pronte però ovviamente non la posso vendere in solo perché mi darebbe più veicoli da utilizzare e da consegnare come al solito le migliori in ordine sono la fabbrica di coca, di meta, di erba, banconote falsificate e per ultimo documenti quindi sono in ordine di guadagno io vi consiglio se dovete proprio acquistarle comprate quelle che costano di meno però comprate direttamente coca e meta come vedete siamo nello stabilimento della metanfetamina come vedete abbiamo una tacca e mezzo di merce quindi perfetto per andare a rivendere se vi ripeto siete in solo non superate la barra e mezzo di scorte perché altrimenti vi darà più veicoli e rischiate di perdere la merce se arriva qualche griefer qui di guadagno ho 214.000 considerate una barra e mezzo ci si arriva in un'oretta, un'oretta e mezzo quindi se avete che ne so video lezione vi mettete in AFK adesso vi faccio vedere come lo stabilimento produrrà e poi voi andrete semplicemente a rivendere quindi è veramente tranquilla come cosa ed è veramente semplice come si va in AFK quindi per non farsi cacciare per inattività semplicemente andate sulle telecamere premete freccia destra e ragazzi bloccate il controller in modo che l'analogico sinistro sia verso il basso così ragazzi che vi cambierà appunto canale delle telecamere come si ottengono queste telecamere sono semplicemente una miglioria quindi sono delle migliorie dello stabilimento che potrete acquistare se non erro dovrebbe essere miglioria attrezzatura o sicurezza comunque vedete voi se vi conviene in alternativa potete mettere il vostro personaggio con un elastico che gira attorno allo stabilimento ma alcune volte vi potrebbe cacciare comunque quindi mi raccomando approfittatene perché questa qui è la tecnica migliore nel mentre che il vostro business produce potrete provare a giocare qualche gara al bersaglio anche se personalmente ve lo sconsiglio perché come vedrete pur arrivando primi pur essendo in una sessione completamente piena quindi in 16 giocatori abbiamo vinto semplicemente 36.000 dollari anche se erano due giri comunque è veramente pochissimo comunque è divertente, è facile quindi magari potrete giocare se vi va comunque io personalmente vi ripeto ve lo sconsiglio vivamente perché come vedete la paga è veramente bassa in alternativa nel mentre che il vostro business MC produce potete fare magari qualche attività CEO come ad esempio cacciatore di teste con il Buzzard o con la MK2 poi l'ultima cosa che mi state chiedendo in molti quando arriva il milione gratis di Rockstar allora molti di voi sapranno che oramai Rockstar fino all'uscita di GTA Online per PS5 ovvero nel 2021 probabilmente ad ottobre regala ogni mese un milione di dollari come fare a ricevere questo milione di dollari? semplicemente state online qualche minuto e quando rientrerete la prossima volta avrete il milione solitamente lo accreditano nella prima settimana di novembre che non è ancora passata però ragazzi comunque hanno tutto quanto il tempo hanno tutto il mese di novembre per darvelo se non ve lo danno adesso semplicemente aspettate come stiamo aspettando tutti anche alcuni con Twitch Prime stanno avendo problemi l'unica soluzione è da aspettare quindi ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto se siete nuovi iscriviti al canale perché sicuramente nelle prossime settimane o anche nei prossimi giorni sapremo qualcosa sul prossimo DLC di dicembre vi ringrazio per la visione e noi ci vediamo al prossimo video vi ringrazio per la visione